Vorrei aggiungere un mio commento personale, una cosa che ho sentito stamattina durante l'abituale caffè del mattino tra amici. Un padre con moglie e due o tre figlie che casualmente è lui che cucina. Non mi sembra un atto eroico, più che altro si assicura di mangiare perché le donne, senza voler fare differenze tra uomini e donne, sono solitamente maniache della linea di mangiare cose leggere, quindi un uomo normale morirebbe di fame. Ne conosco tante, che hanno famiglia, che hanno la fortuna di avere solo figlie femmine e casualmente cucinano tutti chissà perché.